Sembrava che se la scoccava una regina, un pranzo, 160 euro, la figura del giorno, dalla mattinata, un'altra parte, mangio, balle, mangio, balle, tutto il giorno prima, iniziava il giorno prima, no, no, da me no, poi c'è la mattina alle 9, vai a aspettarti, vai alle 11, sei finito, dove? Voleva giù, gli sposi vanno a fare fotografie e tu vai al ristorante, e inizia a fare la carattiva verso le 11, fino alla sera alle 9, non è mezzo, mangio e balle, mangio e balle, ho fatto i miei ristoranti del gran parco lì a Perugno, a Corno.